Sono molto contento di essere qui perché ho visto un interesse importante da parte della società che ha voluto fortemente che io facessi parte di questa squadra, quindi sono positive. La vivi come una retrocessione oppure sei arrivato per fare bene a restare qui a terra? No, per me giustamente uno viene dalla B, quindi è una retrocessione. Per me è un onore essere qui, a me piacciono le sfide, quindi sono qui per fare bene e per far bene sia io che il Teramo. Sono più una punta di movimento come seconda punta, prima punta, quindi non sono una punta statica, ferma, quindi mi piace più svariare. Non è la prima volta in Abruzzo e è un ritorno? No, come ho detto prima, ho avuto un'esperienza a Lanciano arrivando a gennaio dopo abbiamo vinto il campionato, quindi è un buon gradito ritorno. Ti senti di promettere una cifra di gol in particolare? No, io promesse non le faccio, sicuramente prometto di dare l'anima ogni domenica e di sudare la maglia più che posso, poi le promesse, il campo parlerà.